Buongiorno a tutti, eccoci qui con un nuovo appuntamento con il vice direttore della tecnica della scuola Reginaldo Palermo. Professore, che cosa c'è in programma questa settimana? Mi riferisco soprattutto al contratto scuola. Allora, per quanto riguarda il contratto scuola, questa settimana erano in programma tre incontri per la prosecuzione delle trattature presso la sede dell'Aran. Ma abbiamo avuto notizia proprio in queste ore che questi tre incontri sono spostati alla prossima settimana, quindi non saranno il 17, 18, 19 gennaio come era previsto, ma saranno il 24, il 25 e il 26. In ogni caso, la prossima settimana bisognerà affrontare in sede contrattuale una serie di nodi molto importanti che sono ancora in sospeso. Ne cito solo un paio, ma poi magari in settimana potremmo essere più precisi e fare qualche approfondimento. Per esempio c'è il nodo della formazione, che si tratta di capire come configurarla e soprattutto come renderla obbligatoria e a quali condizioni. E poi c'è il nodo della mobilità. I sindacati ovviamente vogliono, chiedono che vengano in qualche modo limitati, attenuati, derogati i cosiddetti vincoli alla mobilità che tuttora la legge prevede. Eliminarli del tutto forse sarà difficile perché appunto ci sono vincoli di legge. Ma probabilmente si potrà trovare una soluzione intermedia, lo vedremo appunto la prossima settimana. Poi c'è l'altro nodo importante, sempre sul contratto, che è la questione dei famosi 300 milioni di euro destinati alla valorizzazione del personale. Già nell'incontro precedente il presidente dell'Ara, Nadeo, ha detto che è in arrivo l'atto di indirizzo del ministro Valditara per consentire lo spostamento di questi 300 milioni dal fondo per valorizzazione della professionalità al fondo per la cosiddetta retribuzione professionale docente. Quindi questi nodi di cui abbiamo detto sono nodi che riguardano la parte normativa. La parte economica si è già conclusa, ma c'è ancora un aspetto che dovrà essere verificato nei prossimi giorni e riguarda i 300 milioni di euro che attualmente la legge destina alla valorizzazione del personale. Nell'ultima riunione il presidente dell'Ara, Nadeo, però ha annunciato che è già pronto l'atto di indirizzo del ministro Valditara che consentirà di spostare questi 300 milioni dalla valorizzazione del personale al tavolo contrattuale, quindi per puntare la detta retribuzione professionale docente a tutti quanti gli insegnanti. Ecco, queste sono le novità che abbiamo oggi in materia contrattuale. Passiamo invece ad un argomento di cui abbiamo trattato, ossia l'insegnamento del diritto del lavoro nelle scuole superiori. Ecco, in cosa consiste e che novità ci sono? La novità è che questo disegno di legge, anzi questi disegni di legge, verranno esaminati e discussi dalla settima commissione della Camera proprio questa settimana. Mi sembra mercoledì ci sarà appunto una riunione della commissione per affrontare questo disegno di legge per discuterlo. Ho detto questi disegni di legge, perché in realtà i disegni di legge in questo momento sono due. Uno è presentato da Fratelli d'Italia e l'altro è presentato da Movimento 5 Stelle. Nella sostanza diciamo che entrambi prevedono che nella scuola secondaria si inserisca una nuova disciplina, una nuova area di studio che è il tema del diritto del lavoro. Ci sono alcune differenze fondamentali fra i due disegni di legge. Fratelli d'Italia prevede che questo nuovo insegnamento riguardi soltanto la secondaria di secondo grado, il Movimento 5 Stelle prevede che la nuova materia, la nuova disciplina parta già dalla secondaria di primo grado. Inoltre, mentre nel disegno di legge di Fratelli d'Italia al momento attuale non ci sono soldi, quindi non è finanziata questa legge, si dovrebbe fare a costo zero con le risorse già disponibili, il progetto di legge dei Cinque Stelle prevede, mi sembra, 25 milioni, se non ricordo male, di finanziamento per questa iniziativa. Inoltre, per Fratelli l'insegnamento dovrebbe essere assegnato a insegnanti delle discipline giuridico-economiche per i Cinque Stelle questo insegnamento dovrebbe essere affidato a insegnanti di materie scientifiche. Lo stesso giorno si discuterà anche a proposito di una importante ricorrenza che stiamo per celebrare, ossia la giornata della memoria. Ecco, ci sono delle importanti novità sul modo in cui verrà commemorata a scuola questa giornata. Ma allora, la novità è che al Senato è in discussione con Rito, diciamo così, abbreviato, con una procedura abbreviata, un disegno di legge che modifica la legge del 2000 che aveva istituito la giornata della memoria. In realtà la modifica non è di sostanza, però è una modifica molto importante perché prevede che i viaggi della memoria vengano finanziati con un fondo apposito messo a disposizione dallo Stato. Si tratta di un milione di euro all'anno a partire dal 2022. Quindi la legge resta quella che è, però c'è questo incentivo, questo sostegno alle scuole che vogliono organizzare il viaggio della memoria. A proposito di ricorrenze, cosa c'è di importante questa settimana? Allora, questa settimana a quanto pare non ci sono ricorrenze particolarmente importanti, però ricordo, colgo l'occasione per ricordare che il 2023 è un anno importante perché nel 2023 ricorrono i cento anni dalla nascita di Don Lorenzo Milani, il ben noto priore di Barbiana, di cui avremo modo di parlare sicuramente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, anche con approfondimenti di vario genere. Per il momento ricordiamo che appunto questo è il centesimo anniversario dalla nascita di Don Milani, sono già in atto in diverse parti d'Italia delle iniziative, delle manifestazioni per appunto procedere in questo senso. L'Indire ha già anche aperto uno spazio Don Milani dove sono raccolte un po' le diverse proposte, le diverse iniziative. Grazie al professor Reginaldo Palermo, vice direttore della tecnica della scuola per queste risposte e ci vediamo al prossimo appuntamento. Un saluto a tutti. Grazie a tutti.